A Parma hai fatto la giocata che ha dato tre punti, oggi il gol che va sul pareggio e poi nella ripresa una zampata, una mischia, è arrivata la vittoria. Sì, tre punti anche oggi importanti dopo quelli di Parma, siamo stati bravi perché abbiamo dato continuità a quello che avevamo fatto là, quindi siamo molto contenti e dovevamo solamente cercare di continuare così. Un ritorno in grande spolvero, un assist vincente, un gol, te lo aspettavi tutto questo? Ma diciamo che lavoro per questo e quindi sono contento che sono rientrato così, diciamo, è solo un motivo di poter aiutare tutta la squadra. Ci abbiamo visto festeggiare sotto la curva, a chi lo dedichi il gol? Ma il gol lo dedico a tutto l'ambiente, a tutto l'ambiente pescara perché sono arrivato qua molto motivato e ci tengo a far bene a livello personale ma soprattutto a livello collettivo. Ora Empoli e poi in casa con l'Imbrescia, tre punti che magari aiutano anche a livello mentale. Sì, sì, ora dobbiamo solo pensare partita per partita, cercare di portare a casa più punti possibili e ora l'obiettivo è quello appunto di dare continuità a queste due vittorie che sono state veramente vittorie importanti. Per chiudere, preferisci giocare a destra, a sinistra o addirittura al centro? No, è uguale, è uguale, dove metto a disposizione per me è indifferente.